Nove persone sono state arrestate ieri dai carabinieri della Compagnia di Vittoria al termine di una indagine legata al cattivo funzionamento della rete elettrica pubblica incontrata a Macconi e a Dacate. Dopo una serie di pedinamenti, servizi di osservazione e controllo del territorio, i carabinieri hanno deciso di effettuare decine di perquisizioni nella zona interessata, appurando che l'intera contrada era allacciata abusivamente alla rete elettrica pubblica mediante appositi cavi. Nello specifico, il dispositivo messo in campo dall'arma, costituito da oltre 40 militari, ha accertato che nelle abitazioni sottoposte a perquisizione, tutte a Marina di Acate e precisamente incontrata a Macconi, c'erano dei cavi che, nascosti, andavano a connettere il quadro elettrico delle dimore con quello dell'illuminazione pubblica. Al termine del controllo sono stati quindi arrestati Dopo aver interrotto la rete abusiva e messo in sicurezza l'intera aria con l'ausilio dei tecnici, i cavi sono stati posti sotto sequestro, mentre i responsabili sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso di energia elettrica. Condotti nella caserma di via Galileo Galilei, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica Gaetano Scollo, sono stati rimessi in libertà. Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei carabinieri per verificare l'entità dell'energia sottratta, certamente considerevole, visto il lungo periodo di tempo durante il quale il reato è stato perpetrato. Grazie a tutti.